benvenuti cari amici dell'uncinetto io sono rosa parlato e oggi realizziamo insieme la borsa con le mattonelle che ho chiamato borsa quadretti come potete vedere sono dei semplici quadri di ecopelle quindi molto semplice da realizzare perché questi quadri vedete sono morbidi quindi sono di ecopelle e non hanno la salpa che li rende duri l'interno come potete vedere sarà sempre morbido proprio come una borsa di tessuto quindi una borsa di tessuto comunque una borsa di ecopelle per i manici vedete ho sempre utilizzato il cordino un manico di circa 70 centimetri e ho semplicemente cucito questo manico vedete alla borsa quindi veramente anche per i principianti la realizzazione di questa borsa è veramente molto semplice andiamo a vedere adesso nello specifico i materiali per il tutorial uso i materiali della merceria sara useremo 13 mattonelle da 8 cm e 200 grammi di cordino suan ovviamente anche un ago a punta tonda inoltre vi ricordo di iscrivervi anche al gruppo facebook le amiche di rosa parlato youtube dove potete farmi vedere i vostri lavori detto questo passiamo al tutorial per il nostro tutorial io vado ad usare vedete queste mattonelle che sono molto morbide e ci permettono una volta lavorato la borsa vedete di piegarla come se fosse praticamente lavorata all'uncinetto o stoffa quindi io semplicemente vedete sono di ecopelle ma hanno uno spessore di un millimetro quindi io mi aggancio con l'uncinetto 3,5 il cordino swan alla mia mattonella e faccio un cappietto vedete per collegarmi entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una catenella adesso tiro un pochino il filo vedete in questa maniera qui così entro nel prossimo foro e lavoro 2 maglie basse quindi una e due entro nel prossimo foro e lavora altri 2 maglie basse di nuovo nel prossimo e lavoro altre 2 maglie basse quando arriviamo vedete nel primo angolo ma in tutti gli angoli lavoreremo 2 maglie basse quindi 1 e 2 una catenella e di nuovo 2 maglie basse vedete nello stesso spazio quindi 1 e 2 in questa maniera qui è come si presenta adesso dobbiamo proseguire lavorando vedete in ogni foro sempre 2 maglie basse quindi lavoriamo la prima e lavoriamo la seconda in ogni foro quando arriviamo vedete nel foro che si trova al centro come qui come qui ma anche qui lavoriamo 2 maglie basse una catenella e due maglie basse quindi andate a proseguire quando abbiamo completato vedete l'ultimo angolo abbiamo la il foro dove abbiamo lavorato una scuola ci siamo agganciati abbiamo lavorato una sola maglia bassa quindi entriamo nel foro in questa maniera qui e lavoriamo un'altra maglia bassa per completare le due adesso vedete sulla prima maglia bassa entriamo e lavoriamo una maglia bassa questo significa che andiamo a lavorare a spirale quindi io qui vado a mettere un marca punti mettiamo un marca punti così sappiamo quando termina la riga adesso entriamo nella prossima maglia bassa e lavoriamo vedete una maglia bassa su ogni maglia bassa in questa maniera fino ad arrivare al nostro angolo arrivo vedete nell'ultima maglia bassa e qui ho la catenella quindi cercate di individuarla io ne ho fatto una perché con questo filato due erano troppe quindi entro vedete dove ho la catenella quindi non dentro la catenella ma attraverso e lavoro una maglia bassa una catenella e di nuovo una maglia bassa qui o vedete la maglia bassa quindi abbiamo altre due maglie basse vedete nello stesso foro quindi entro nella prima dentro nella seconda e così vedete ho completato per l'angolo adesso noi dobbiamo sempre proseguire vedete a maglia bassa quindi maglia bassi in ogni punto è sempre uguale ovviamente la lavorazione quando arriviamo vedete qui dove abbiamo le due maglie basse la catenella eccola qui attraverso questa catenella noi dobbiamo lavorare vedete dobbiamo attraversare la catenella e qui andiamo a lavorare una maglia bassa una catenella e una maglia bassa e dopo iniziamo a lavorare vedete dalle due maglie basse nello stesso foro tutte maglie basse faremo la stessa cosa in quest'angolo è la stessa cosa nell'ultimo angolo completata vedete la seconda riga così si presenta il lavoro adesso che abbiamo di nuovo vedete ovviamente io ho completato l'ultimo angolo e qui abbiamo di nuovo vedete il marca punti togliamo il marca punti e lavoriamo una maglia bassa rimettiamo il marca punti e adesso lavoriamo l'ultima riga della leva della lavorazione quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa vedete quindi sempre uguale e arriviamo nell'angolo arriviamo vedete dove qui ho la catenella quindi qui è l'ultima vedete maglia bassa adesso devo sempre attraversare vedete la catenella quindi l'attraverso si vedete e lavoro una maglia bassa una catenella e una tra maglia bassa sempre all'interno del nostro lavoro della nostra catenella adesso guardate devo individuare io qui ho la maglia bassa eccola qui la lavoro e ho le altre maglie basse da lavorare quindi vado a proseguire con le maglie basse quindi ricordate sempre una maglia bassa su ogni maglia bassa quando arriviamo nell'angolo all'interno dove abbiamo lavorato la catenella lavoreremo una maglia bassa una catenella è una maglia bassa andate a proseguire fino al marca punti quando vedete arriviamo al marca punti e quindi abbiamo completato l'ultima riga tolgo il marca punti taglio il filo e l'estrago in questa maniera qui adesso guardate vado a chiudere la lavorazione salto il punto dove avevamo il marca punti entro in questa maniera qui e carico il filo in questa maniera vedete e vado con un ago a punta tonda quindi siamo così vedete entro al centro della lavorazione così e vado a chiudere e ho realizzato così vedete la sola e poi andiamo ovviamente all'interno della lavorazione e chiudiamo e chiudiamo quindi cercate di chiudere bene ecco qua io taglio e con un accendino vado a saldare facciamo la stessa cosa ovviamente con il filo di inizio della lavorazione fatto questo adesso andiamo a completare un totale di 13 mattonelle nella stessa maniera adesso vedete una volta completate le 13 mattonelle le andiamo a posizionare in questa maniera fermate lo schermo e andate a posizionarle uguale al mio schema a questo punto vedete una volta che ho posizionato i miei mattonelle vado a cucire inizio a cucire in maniera orizzontale secondo lo schema vedete che vi ho fatto vedere quindi cosa faccio appoggio questa mattonella su questa e vado a fare una cucitura allora ovviamente dovete decidere voi allora se fate tutto il contrario così il bordino magari non mi viene che si vede se invece vogliamo un bordino che si vede andiamo a cucire in questa maniera siccome a me il bordino mi piace io inizio a cucire in questa maniera vedete attacco così e così e così e così adesso vi faccio vedere come vado a cucire allora la prima cosa che faccio vedere che faccio vedere per farvi capire bene evidenziare dove o la catenella avendo la catenella qui io so che devo entrare sia in questo punto quindi tolgo il marca punti che quello dove o l'altra catenella frontale quindi ci aiutiamo magari così che vado a cucire adesso entriamo guardate in questa maniera io ho il filo da questa parte entro nel punto dopo e frontalmente così ho il filo qui vedete fuori esce subito nei lati e di fronte e di nuovo ho il filo qui e vado di fronte quindi ripetiamo questi punti in questa maniera e così vedete viene un bordino in questa maniera sopra l'altro visto che è della stessa tinta non mi dispiace vi devo dire la vita adesso vado a proseguire fino alla catenella mi sono arrivata vedete nel punto dove ho la catenella sia di qua che di là adesso guardate io ho posizionato di nuovo i marca punti dove ci sono le catenelle o il filo vedete da questo lato quindi tolgo questa catenella e semplicemente entro qui tolgo ovviamente in marca punti dall'altra entro così e vedete che stiamo andando vedete a proseguire in questa maniera e adesso guardate io entro di nuovo dove ho la catenella guardate vedete di nuovo ok quindi dove ho lavorato il punto che ho la catenella entro di nuovo qui e poi entro di nuovo nella catenella quindi vado a fare un punto di congiunzione in questa maniera e adesso di nuovo vado a proseguire così quindi pieghiamo così andiamo a proseguire alla stessa maniera andate a proseguire fino alla fine arriviamo vedete nell'ultimo punto dove abbiamo una catenella sempre semplicemente andiamo a uscire l'ultimo punto così e poi andiamo a nascondere ovviamente la codina ok andiamo a nascondere all'interno adesso guardate man mano io vado a scendere in questa maniera e vado a cucire quindi da questo lato inizieremo sempre vedete da qui e andiamo a a cucire così quindi accostando vedete le due mattonelle in questa maniera andiamo a cucire questa ovviamente no la usciremo da quest'altra parte di di man mano che scendiamo accostiamo poi se andiamo a cucire vedete quindi qui e andiamo a cucire e dopo andiamo a cucire ovviamente nell'altro verso quindi in verticale quindi siamo uscendo vedete inverti in orizzontale poi andiamo a cucire in verticale quindi andate a proseguire le cucitore come vi ho fatto vedere adesso guardate passiamo a le cuciture che praticamente sono nell'altro verso noi abbiamo iniziato vedete così la cucitura questa è quella verticale ovviamente io giro e si cuce alla stessa maniera qui abbiamo guardate adesso mi avvicino per farvi vedere abbiamo una codina ovviamente vedete che dopo andiamo a nascondere o lo facciamo anche subito vedete voi insomma io dopo vado a chiudere entro in questa maniera è la catenella quindi entro e dentro dove ho la catenella da quest'altro lato mettete marca ponti se avete difficoltà a riconoscere dove avete la catenella adesso semplicemente guardate iniziamo ovviamente come abbiamo fatto finora quindi la cucitura è sempre uguale ovviamente sarà sempre identica meno che non scegliate un'altra modalità di cucitura questa è la metodologia che piace a me ovviamente quindi noi iniziamo a cucire così anche per quanto riguarda ovviamente il lato verticale fino ad arrivare vedete dove abbiamo la cucitura vedete abbiamo questo foro che è la cucitura ovviamente dell'altro del del lato orizzontale che abbiamo iniziato quindi arrivate fin qui quando arriviamo vedete al centro noi dobbiamo fare in modo che questo buco vedete si chiuda quindi che cosa faccio è ovviamente io mi trovo di qua ma se vi trovate dall'altro verso è la stessa cosa lo fate ovviamente da questo verso io entro in questa maniera che vedete e vado frontalmente così perché dobbiamo cercare di chiudere il foro se a voi non si crea meglio ancora vedete chiudiamo il foro quindi tiriamo e poi vado ecco nei punti vedete centrali così e inizio chiaramente vedete a cucire come abbiamo fatto finora quindi la lavorazione è praticamente poi sempre uguale fino ad arrivare nell'ultimo punto e vi faccio vedere anche come chiudiamo le codine quando arriviamo vedete alla fine dove praticamente io qui ho la maglia bassissima e anche qui vedete quindi la catenella perdonate io entro nel punto in questa maniera qui e poi entro in quello dopo quindi la maglia bassa quindi non la catenella così e vado semplicemente a chiudere vedete così entro al centro qui all'interno che vado a chiudere quindi nascondiamo sempre all'interno del nostro lavoro e salviamo con l'accendino adesso vedete non dobbiamo fare altro che capovolgere il pannello quindi in questa maniera qui prendo vedete l'estremità dove ci sono vedete le due punte e vado a fare in questa maniera ovviamente io ho fatto dei colori diversi vedete quindi da un lato si vedranno questi colori dall'altro quest'altro e dobbiamo semplicemente vedete piegare questo lato piegare questo lato e andare a fare una cucitura io vado a posizionare ovviamente dei marca punti in modo che praticamente fermo benissimo la parte da uscire quindi ragazzi guardate io praticamente posizionato dove ho qui la catenella o quella catenella vedete un messo marca punti anche qui ho fatto la stessa cosa anche qui vedete facciamo la stessissima cosa qui abbiamo guardate la catenella e vado a bloccare dove da quest'altro lato vedete ho il centro della catenella che è già uscito ovviamente ecco qui facciamo la stessa cosa di qua quindi una volta che abbiamo fatto questo vedete non dobbiamo fare altro che andare a fare la cucitura in questa maniera iniziamo dal basso e andiamo a completare fino a qui ovviamente questa parte vedete questa di sopra dovrà essere lasciata aperta perché ci servirà per l'apertura della borsa quindi andiamo a cucina quindi guardate io inizio dal basso infilo vedete negli ultimi punti dopo ovviamente andiamo sempre a nascondere le codine ecco qui e vado a proseguire sempre a fare la cucitura nella stessa maniera di cui vedete frontalmente arrivati guardate dove abbiamo posizionato il marco punti semplicemente entriamo all'interno di questi fuori guardate e andiamo a proseguire quindi giusto una guida per bloccare bene la lavorazione ovviamente prima di fare questo passaggio andate a prendere la misura della fodera quando la borsa sarà ancora aperta perché sarà più semplice ovviamente dopo andare a posizionare la fodera quindi andate a proseguire quando abbiamo il marcapunti lo togliamo e continuiamo la cucitura in questa maniera poi fino ad arrivare qui vedete dove ci fermiamo quindi la parte superiore come abbiamo detto vedete della borsa questa parte deve rimanere aperta questo bordo deve rimanere aperto arrivo vedete alla fine e vado a bloccare bene bene punto questa parte vedete come vi dicevo resta aperta ovviamente andiamo a nascondere sempre il filo all'interno della nostra lavorazione in questa maniera quindi qui vedete resterà in questa maniera qui adesso nascondiamo ovviamente il filo all'interno e andiamo a ripetere la stessa cucitura dall'altro lato a questo punto vedete la nostra borsa è terminata eccola qui vedete questo è l'interno e questo sarà l'esterno adesso io vado a fare un giro di decorazione sul bordo quindi parto vedete da un lato della borsa carico chiaramente il mio filo in questa maniera qui mi aggancio vedete e dentro in ogni punto lavorando delle maglie basse quindi semplice semplice maglie basse su ogni punto e arriviamo fino alla punta quando arriviamo vedete alla punta dove la catenella semplicemente entriamo e lavoriamo una maglia bassa quindi una sola maglia bassa una sola maglia bassa in questa maniera qui proseguiamo quindi vedete a maglia bassa fino ad arrivare al centro vedete dove abbiamo praticamente le due mattonelle in questa maniera qui quindi vedete qui abbiamo il punto della mattonella sulla destra e quello della sinistra entriamo in questo carichiamo il filo entriamo vedete in quello dopo e carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme così e andiamo a proseguire a maglia bassa quindi in ogni punto poi proseguiamo a maglia bassa facendo in questa maniera qui vedete il centro viene anzitutto chiuso e non si nota vedete nessun punto in più ok quindi adesso andiamo a procedere sempre nella stessa maniera lavorando le maglie bassi in ogni punto compresa la catenella e arriviamo nell'angolo ecco vedete come si presenta presenterà il bordo superiore della borsa una volta lavorato adesso vedete arriviamo nell'angolo e anche nell'angolo lavoriamo alla stessa maniera abbiamo un punto qui vedete entro in questo punto carico il filo entro nel punto successivo quindi guardiamo bene qual è il punto successivo e questo quindi entro e carico il filo e chiudo tutto insieme in questa maniera qui e adesso vado a procedere lavorando una maglia bassa su ogni punto quindi come abbiamo lavorato da questo lato dobbiamo andare chiaramente a lavorare anche da quest'altro lato quindi maglie basse quando arriviamo qui al centro carichiamo il filo lavorando insieme sia il punto di destra che di sinistra e ovviamente poi lo facciamo anche di qua quindi andate a proseguire io faccio lo stesso quando arriviamo vedete nell'ultimo angolo dove poi abbiamo iniziato vedete qui il lavoro io faccio la stessa cosa entro nell'ultimo punto carico il filo entro nel punto dall'altra parte carico il filo e chiudo tutto insieme in questa maniera e qui vedete abbiamo il punto dove ci siamo agganciate lavoriamo una maglia bassa perché ci siamo soltanto vedete agganciate tagliamo il un po di filo e andiamo a chiudere la lavorazione quindi sfilo non in questo vedete nel punto dopo entro e carico il figlio in questa maniera così vedete con un ago a punta tonda vado a chiudere quindi sono così vedete entro al centro e vado all'interno della lavorazione in questa maniera così abbiamo chiuso ovviamente andiamo a nascondere vedete il filo sempre all'interno e vado a saldare con accendino a questo punto vedete io realizzo questo tipo di manici sempre con il cordino ovviamente voi potete metterli anche nei copelli e vado semplicemente vedete a fissare i manici sulle ponte in questa maniera qui io ho realizzato dei manici di circa 60 centimetri che nel mio caso sono 100 catenelle per il tutorial di questo manico vi metto nel box informazioni il tutorial quindi vedete un manico abbastanza lungo che permette di portarla in spalla quindi questo ovviamente opzionale potete scegliere come andare ovviamente a rifinire la vostra borsa io sempre con un ago vado semplicemente vedete a cucire in questa maniera questo è il dritto del manico ovviamente un appoggio dritto contro rovescio così e vado semplicemente vedete a cucire il manico con del cordino quindi entro ed esco dal dietro sul davanti in questa maniera maniera molto molto semplice chiaramente poi la codina andiamo a nascondere controlliamo se abbiamo fissato bene il manico stringiamo ed ecco che vado che ho vedete cuscito il mio manico possiamo andare a fissare entrando un paio di volte all'interno in modo che il manico sia più fermo quindi andate ovviamente a cucire anche l'altro lato e l'altro manico